In America viene commesso un furto ogni 11 secondi. Un'aggressione ogni 65 secondi. Un reato di sangue ogni 25 secondi. Un omicidio ogni 24 minuti. E 250 violenze carnale al giorno. Un'aggressione ogni 25 secondi. 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 Ehi, io ti ammazzo, Sbiro! Vi massacro tutti! Devo abbattere le strutture di questo sporco mondo! Com'è che non vedo le telecamere? Sta' attento! Ho una bomba, eh! Posso farli a pezzi? Fa venire subito la tv! Ho l'istritalo a tutti questi merdi! Hai capito? Così fa il mondo oggi! Ma che aspetti, porco! Vado però! Stetti amici li faccio una strage, è chiaro? Siete un pochino di letame e meritate il peggio! Morirete tutti quanti, capito? E questa vacca si ammazza anche la mica finita! Prima me la faccio e poi l'ho fatto! Anzi, comincia subito! Metti di gioco! Sta a sentire tu! Sei uno schifoso! Solo uno schifoso! Hai già ammazzato un po' di reso, così per tutto! Ora hai permesso di fare i conti! Stai a sentire! È una bomba questa! Ammazzo lei! E faccio saltare per aria tutto il negozio! Che aspetti? Non devo mica fare la spesa! Vedi di calmarti, amico! Vuoi parlare? E parli! Io vado pazzo per la conversazione! Non voglio parlare con te! Fa venire le telecamere! Lo sparo! E guarda che non scherzi! Non posso farlo! Perché? Non tratto con i maniaci! Li metto al sicuro! Non ce lo passo, capisci? Sono un eroe! Hai davanti un vendicatore! Un eroe del nuovo mondo! Tu sei il male! E io sono la cura! Crepa! Fermo! Sous-titrage Société Radio-Canada Grazie a tutti!